La presentazione degli emendamenti al decreto anticrisi che ha consentito una spendibilità immediata per le risorse relative alla riduzione del bullo e alle compensazioni dei pedaggi autostradali e l'istituzione di un fondo di garanzia per il credito per l'autotrasporto ci hanno convinto ad annullare la manifestazione che lunedì era già stata programmata sul grande raccordo anulare. Ringraziamo ovviamente il Ministro per l'impegno che è stato messo per raggiungere questi importanti obiettivi ma dobbiamo ancora una volta rimarcare come l'autotrasporto ha dimostrato grande senso di responsabilità nel cercare con grande fatica una soluzione che poi è arrivata ma ripeto la responsabilità nell'annullare una manifestazione che certamente avrebbe creato problemi rimarca ancora una volta che l'autotrasporto vuole lavorare per risolvere i problemi e non per crearli. A questo punto a metà settembre ci sarà un altro incontro col governo durante il quale continueremo la verifica e il monitoraggio degli impegni che il Ministro si è assunto con le imprese di trasporto.